ciao ragazzi ho degli aggiornamenti e dei chiarimenti per quanto riguarda l'evento del 20 ottobre allora per quanto riguarda gli aggiornamenti insieme al titolare del laghetto del generale abbiamo deciso di premiare i primi tre e verranno premiati con delle con delle mystery box invece per quanto riguarda gli agili i chiarimenti sono in riguardo all'iscrizione è semplicissimo adesso sto facendo questo un chiarimento perché ho saputo che c'è stato qualche problemino allora bisogna mandare un messaggio whatsapp al numero di telefono quello del volantino il volantino lo trovate sulla mia pagina facebook albatros fishing quando mandate il messaggio dovete confermare la partecipazione una volta confermata la partecipazione il titolare del laghetto del generale vi manderà vi risponderà dandovi tutte le informazioni necessarie per la partecipazione e basta era tutto qua è veramente banale solo che ho saputo c'è stato qualche incomprensione probabilmente niente io spero di vedervi più numerosi possibili mi farebbe davvero piacere passare una bella giornata con voi di pesca una cosa sarebbe una cosa particolare per me e niente nel frattempo vi saluto vi mando una buona serata e mi raccomando ci vediamo al 20 ciao ragazzi